Com'era l'acqua? Bellissimo, prone generali per il primo di gennaio, meravigliosa, la città migliore del mondo Grotoni, non c'è paragone. Passati i giorni di vento, oggi a mare? Oggi a mare ovviamente, 17 gradi, trotone, trotonese, doc. Ma sei fuori? Sto fuori però sì. Qual è la regione? Toscana. Il primo gennaio sarei qui per il tuffo di Capodanno? Sì, queste erano le prove generali. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!